Presentato questa mattina il progetto della nuova pista ciclabile di Fossamastra, prosegue l'impegno dell'amministrazione per una mobilità sempre più green e sempre più sostenibile. Questo di Fossamastra è un intervento importante che rientra dentro una riqualificazione del quartiere con un'area verde e con percorsi dedicati proprio a chi utilizza la bicicletta oppure utilizzerà sempre più la bicicletta per muoversi. Indubbiamente è un lavoro che proseguirà nei prossimi anni e noi dobbiamo migliorare la nostra qualità della vita e si passa anche da investimenti in questo settore. La ciclovia tirrenica è l'opera macro che il Paese ha scelto di fare quindi intervenendo anche sul nostro territorio e oggi noi diamo il via libera a un'opera importante per quanto riguarda tutto il quartiere di Fossamastra ma non solo, anche la via Valdilò che quindi verso la centrale è nel tanto per capire che fiancheggerà l'Ottomalara. Avendo strutture e infrastrutture adeguate per il cittadino rinunciare all'utilizzo della macchina e usare la bicicletta diventa sicuramente una scelta più facile. Abbiamo in corso un progetto da 600.000 euro che in realtà sono due progetti da 300 ognuno nei quali alla fine di questi progetti riusciremo ad arrivare a passare da 8 a 32 km di piste ciclabili. Abbiamo sostituito le biciclette dello sharing, quindi del bike sharing, abbiamo sostituito più di 200 biciclette e abbiamo ribranderizzato tutte le postazioni, quindi abbiamo delle postazioni nuove, ne faremo delle altre e abbiamo dato degli incentivi per la mobilità alle aziende per far sì che finalmente la bicicletta diventasse uno strumento utilizzato quotidianamente. Quali sono i tempi e i costi di realizzazione di questa importante opera? I tempi sono, permettiamo di concludere l'opera, le due opere entro l'estate prossima, quindi primavera, essere pronti e quindi dall'inizio dell'estate prossima poter usufruire di entrambe le opere che sono quelle della pista ciclabile che collegherà appunto dalla parte della rotonda dell'Enel fino alle casermette e a congiungersi poi in via di San Bartolomeo e il parco che verrà realizzato, parco giochi inclusivo, che verrà realizzato lì alle spalle della scuola elementare presente a Fossa Mastra. Un'opera di qualificazione generale di tutto il quartiere che con queste due opere appunto riporta un po' di dignità anche al quartiere di Fossa Mastra.